Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. I commissari di Ilva in amministrazione straordinaria hanno richiesto ad Acciaierie d'Italia aggiornamenti urgenti sullo stato di funzionamento degli impianti dello stabilimento, le iniziative in corso di svolgimento e avrebbero manifestato la necessità di una visita ispettiva. E quanto apprende l'Ansa da fonti interne. In mattinata inoltre il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha sollecitato i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e il socio pubblico in Vitalia ad attuare le dovute interlocuzioni con Acciaierie d'Italia nonché tutte le azioni necessarie per garantire la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto. L'obiettivo adesso è garantire la sopravvivenza dell'ex Ilva di Taranto e non consentire all'attuale amministratore delegato di Arcelor Mittal di accrescere una situazione già di per sé piuttosto grave che porterebbe la multinazionale a compiere un vero e proprio delitto perfetto. Così FIMCISL, FIOMCGL, Wilm Taranto e USB in una nota congiunta diramata nella serata di ieri con la quale comunicano una manifestazione che avverrà nella giornata di lunedì 29 gennaio. Dopo il concentramento davanti alla portineria imprese ci sarà un corteo che proseguirà attorno al perimetro dello stabilimento con l'obiettivo nell'iter di conversione del decreto di trovare le opportune garanzie a tutela dei lavoratori e dei crediti delle imprese per salvaguardare l'ambiente, l'occupazione e l'industria. Alla manifestazione parteciperà anche AIGI quella di lunedì ha dichiarato l'associazione indotto A di General Industri sarà una data storica per la città. Per la prima volta infatti a manifestare con le stesse e medesime rivendicazioni saranno imprenditori e organizzazioni sindacali che scendono per strada in difesa della città. Presentato questa mattina a Taranto presso il plesso dell'EDDA dell'istituto comprensivo Vico De Carolis, il progetto Eureka, gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori, rivolto agli alunni delle quinte classi delle scuole elementari e organizzato per la sua dodicesima edizione da Federmeccanica che nell'ambito di Confindustria rappresenta la federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana. Come Confindustria noi crediamo molto nell'istruzione, crediamo molto nei bambini che saranno ovviamente il nostro futuro, il nostro futuro come imprenditori, quindi il nostro futuro come lavoratori e quindi abbiamo pensato questo progetto in particolare per dar sfogo alla creatività, alla fantasia dei bambini e iniziarli a far prendere confidenza, in questo caso con la meccanica ma in generale con le materie che sono oggetto delle attività imprenditoriali del territorio. Sì, oggi abbiamo dato avvio a questa iniziativa molto interessante proposta da Confindustria Taranto che ha coinvolto due classi quinte del nostro istituto, di entrambi i plessi del nostro istituto Vico e dell'Edda e si tratta di, il progetto si chiama Eureka, si tratta di una gara per diventare piccoli inventori, quindi i bambini hanno ricevuto un kit che contiene del materiale e lavorando insomma in classe con i loro insegnanti realizzeranno poi, progetteranno e costruiranno poi un prodotto finale che sarà valutato da un'apposita commissione. Si è tenuto questa mattina a Bari presso l'hotel Parco dei Principi il Consiglio Generale della CISL Puglia, dal titolo la CISL Puglia tra territorio, periferia, persona e lavoro. La relazione introduttiva è stata curata dal segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci, ai lavori ha partecipato anche la segretaria generale aggiunta della CISL nazionale, Daniela Fumarola. Noi abbiamo fatto anche una conferenza stampa qualche giorno fa, abbiamo messo in fila tutta una serie di priorità che secondo noi vanno affrontate con appunto il nostro livello regionale della regione Puglia, ma in primis sicuramente c'è la questione sanità, sviluppo, la questione energia, la questione infrastrutture, mettere a regime tutte le risorse del PNRR ma soprattutto spenderle bene e su questo noi auspichiamo che rispetto anche a dei protocolli sottoscritti con la stessa regione si possano rispettare. C'è grande difficoltà sui territori, nei territori la gente ha necessità di curarsi, purtroppo per tutta una serie di questioni sappiamo le difficoltà per quanto riguarda tempi e liste di attesa, la questione emergenza e urgenza e poi il problema fondamentale della sanità come sappiamo è il problema della carenza di personale. Noi pensiamo che come abbiamo sempre sostenuto bisogna assolutamente intervenire con urgenza per garantire il lavoro, per garantire la continuità dell'impresa, bisogna garantire assolutamente le opere di bonifica perché come noi diciamo assolutamente i diritti costituzionali vanno preservati, quindi diritto al lavoro, alla sicurezza, ad un luogo salubre sia per chi ci lavora che per i cittadini. Il Talsano Taranto dice addio alla Coppa Italia a promozione. La squadra bianco-verde dopo aver perso la prima gara a Galatina per 4 a 1 si arrende anche in casa contro la rinascita Refugis per 5 a 0. A fine gara abbiamo ascoltato il tecnico del Talsano Taranto, Franco degli Santi. Beh, quando non ci sono le motivazioni è chiaro che si rischia di fare una brutta figura. Noi oggi a livello di risultato soprattutto non abbiamo dato il massimo, però capisco che non ci sono degli stimoli perché eravamo già fuori dalla Coppa e quindi c'è stato un calo di attenzione, di concentrazione che ha pesato sul risultato. Sicuramente sì, noi dobbiamo cercare di fare quanto più punte possibile per tirarci fuori da quello che è il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Credo che ci sono tutti presi posti per poterlo fare. Il proseguo delle attività sportive, il coach visto anche nella veste di educatore e lo sviluppo della partnership instaurata con il gruppo support del presidente Cicciostola. Questo e molto altro nell'intervista rilasciata da coach Fabio Palagiano ai microfoni di Cosmopolis Media. L'obiettivo principale è questo, al di là dello sport, che chiaramente ho la passione della palaganestro, però l'obiettivo nostro è cercare di far capire a questi bimbi le regole, le regole sportive, chiaramente le regole maggiori sono quelle del basket per quanto ci riguarda, però è chiaro, regole nello stare in fila, regole nello stare in silenzio nel momento in cui l'istruttore parla. Io sono fortunato perché ho tutti dei bambini veramente che fanno tutto questo con grande voglia e passione, quindi il mio ruolo sicuramente è molto facilitato in questo campo. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.